Oggi andremo a fare un antipasto tricolore in tema mondiale, zucchine tagliuzzate, olio, un pizzico di sale e fondamentale l'aglietto per dare sapore, stanno già sfrigiacchiando, gli mettiamo l'acqua, vedete l'aglietto tagliuzzato, tagliuzziamo bene, prima dai bordi, eliminiamo i bordi e poi lo infiliamo, pulito dentro la pentola, finito, iniziamo a traduzione i pomodori e la mozzarella, mentre le zucchine si fanno, vedete che si mosciano, finitete lo sfrigiacchiare, si stanno facendo, nel frattempo, un rigore, abbiamo il nostro formaggio, la mozzarella, un goccino di olio, un pizzico di sale, un po' di aceto per dare più sostanza al tutto e il giochino è fatto.